Francesca Rizzi, leggevo di una ricerca in cui voi avete dato un contributo in cui emerge, cito questo dato che è interessante, che il benessere del dipendente vale 4,5 volte la spesa dell'azienda. Un dato molto interessante. Io volevo, buongiorno a tutti intanto, avevo in mente di dire alcune cose e ne dirò delle altre, nel senso che volevo partire dalla domanda di Massimo che è perché le aziende non investono ancora in questo e dallo spunto di Giordano ci troviamo, ci diciamo tutti che sappiamo come si fanno le cose ma poi non cambia niente. E quindi vorrei provarvi a dare dei contributi in fase più progettuale e forward looking. Da un punto di vista di un'azienda come Jointly che è un'azienda che si occupa di corporate well being, noi ci occupiamo di benessere delle persone all'interno delle organizzazioni, da dieci anni questo è il nostro mestiere, ma con quale visione? Con una visione molto trasversale di quello che è benessere, una persona oggi all'interno dell'organizzazione sta o non sta bene, il benessere oggi è il risultato di un'esperienza vita-lavoro che le nostre persone, che facciamo vivere noi, i nostri collaboratori, che può essere determinata da una serie di fattori ambientali, ne abbiamo parlato prima, genetici, epigenetici, quello che mangiamo, lo sport, la qualità della vita e quant'altra, fattori stressogeni che sono determinati non solo dal fatto che magari a casa ho delle preoccupazioni di un certo tipo, ho un figlio che mi dà problemi, un genitore malato, ma anche perché magari alla mattina vado al lavoro e mi trovo un capo stronzo, scusate se lo dico così, ma quando ci vuole ci vuole e allora l'app che Daniele faceva vedere prima, chissà quanto schizza il tuo valore quando ti trovi, e quindi il benessere è frutto di tutto questo. Allora, io partirei, quello che ho visto soprattutto in questi ultimi anni in cui di well-being si inizia a parlare tanto, ma l'errore tipico è stato partire da cosa? Cosa possiamo fare? Abbiamo lo strumento, abbiamo l'iniziativa, abbiamo il servizio, cioè molto sugli interventi. Io credo che il problema sia che non abbiamo parlato a sufficienza del perché e del come, prima ancora di entrare nel cosa fare. Allora, il perché, inizio a dire che il lavoro che possiamo fare con SEO4Life è sulla cultura, non c'è, perché per la maggior parte dei SEO, non parlo dei direttori di Ciar, ma dei SEO, questo oggi non è ancora un tema sull'agenda, non è un tema strategico, non hanno capito, non solo che conviene da n punti di vista, voi possiamo parlarne per ore di fattori economici hard, ma la settimana scorsa all'osservatorio del Politecnico condividevano una serie di dati su, abbiamo parlato di grandi dimissioni, ragione numero uno per cui le persone cambiano lavoro è perché non stanno bene in azienda, cambiano con dei dati altissimi dalla pandemia in avanti e entro 12 mesi si pentono di aver cambiato, perché? Perché non stanno bene neanche nell'azienda in cui finiscono, quindi abbiamo delle organizzazioni che non stanno cambiando in linea con quelle che sono le aspettative delle persone, primo. Secondo, le nuove generazioni ti dicono sì, retribuzione, posto fisso, carriera, va bene, fattori igienici, ma a me interessa un'azienda dove si sta bene, dove la qualità della vita sia in linea con le mie aspettative, dove io poi posso incastrare il lavoro nella mia cornice di visione di vita. I dati, se vi capita di vederli dalla ricerca dell'osservatorio, è pazzesco perché nell'analisi cross generation ti fa vedere una generazione Z che ribalta completamente i criteri rispetto alle generazioni precedenti. Secondo punto, i dati di engagement che citavi prima, in un paese che ha i dati di produttività del lavoro più bassi sicuramente in Europa, dovrebbero essere un fattore che ci preoccupa, quindi in un paese dove non riusciamo a trovare risorse, vanno via, stanno poco e non siamo produttivi, è un tema di competitività. E questo è il primo punto, bisogna portare questo in alto sulle agende dei CEO perché altrimenti possiamo andare avanti a parlare molto. Secondo punto, il come. Allora oggi abbiamo parlato di tecnologie di dati, questo per me è un passaggio fondamentale. Io vorrei chiedervi, ma non ve lo chiedo, ma vi butto la domanda, quanti CEO, quanti di voi, nelle vostre aziende, quanti di voi hanno dati che permettono di misurare il benessere dell'organizzazione o delle persone dell'organizzazione? La risposta ve la do io, quasi nessuno. O ci sono dei data point un po' sparsi oppure si fa la survey di clima una volta all'anno, non ci sono dati. Quindi come possiamo fare degli interventi senza avere dei dati? Allora noi gli investimenti in tecnologia che stiamo facendo proprio per mettere a sistema tutti gli interventi di well-being che le aziende fanno e per andare a misurare, quantomeno a capire le aziende, le persone, cosa cercano, cosa utilizzano, di che cosa hanno bisogno, i cluster generazionali. Cioè se vogliamo andare a fare degli interventi mirati e non a pioggia con un modello assistenziale dove diamo tutto a tutti, ma diamo quello di cui c'è bisogno a chi ne ha bisogno, abbiamo bisogno di dati. Nelle aziende in particolare, devo dire, nelle direzioni HR non c'è una cultura di dati e questo è un problema perché A non li cercano e B quando glieli dai gli fai anche un po' paura perché il dato bisogna poi saperlo trattare, leggere, interpretare. Però lo stimolo, cioè come dire, un po' la provocazione che faccio ai CEO è i dati non ve li danno ma voi non li chiedete perché c'è sempre un po' un problema di domanda a fare. Cioè dobbiamo iniziare a creare anche progettualità per venire poi tutto anche il sistema degli incentivi su cui si può fare delle azioni di gruppo. Un sistema di incentivo anche fiscale va dato sul merito, non va più dato, questo mio modesto punto di vista, a tappeto a tutti. Quindi iniziamo a dimostrare che le cose fatte in un certo modo producono dei risultati misurabili e quindi se io come azienda investo un euro per produrre in termini di prevenzione, il benessere psicologico, ovunque la prendiamo, dei risparmi per il sistema paese perché poi quello che sta succedendo è che in maniera più o meno silente però stiamo spostando sul privato dei costi che erano costi del welfare pubblico che in qualche modo nessuno riesce più ad assorbire. Allora io l'incentivo te lo do sul risultato, non sul fare cose e basta. E poi parliamo anche del che cosa possiamo fare, i progetti possono essere, parliamo, nei diversi interessanti. Però direi che io credo che dobbiamo alzare un po' il livello del dibattito sugli abilitatori perché altrimenti non riusciamo a produrre un cambiamento che sia sostenibile. Grazie, grazie Francesca Rizzi.